Smartphone in classe sì o smartphone in classe no? Ha fatto molto discutere un'affermazione dell'attuale Ministra dell'Istruzione Fedeli, secondo la quale starebbe pensando di concedere il permesso di utilizzare gli smartphone in classe agli studenti. E subito molti docenti e molti genitori si sono sollevati. In questo video mi soffermo in particolare di fronte ad una delle maggiori obiezioni che ho letto sul web, ossia che i nostri ragazzi, avendo in mano gli smartphone, verrebbero eccessivamente distratti e non seguirebbero più le lezioni. Di per sé queste persone non hanno tutti i torti, ma io ti ribalto la domanda, ossia di quali lezioni stiamo parlando? Perché poi il fulcro è essenzialmente questo, ossia se i nostri ragazzi in classe trovano più interessante stare sul cellulare oppure farsi girare una roba a tre pale sopra un dito, vi ricordate il fenomeno dei fidget spinner di prima di quest'estate? Ebbene, se i nostri ragazzi preferiscono svolgere queste attività anziché fare attenzione alle lezioni, allora forse il problema potrebbe stare nelle lezioni stesse. Pensa bene alla doppia vita che i nostri ragazzi devono vivere. Ossia, da una parte esiste la vita che loro considerano reale, la vita quotidiana, potremmo definirla così, o almeno ai loro occhi è questa, che è fatta di luci, suoni, ipertesti, video, tap, gaming, e potremmo anche aggiungere gamification, un mondo veloce che viaggia quasi letteralmente alla velocità della luce, fatta di contatti anche esterni, fatta di contatti anche distanti, che si ritrovano in tempo reale. Una vita in cui possono spaziare anche fisicamente, quindi possono correre, possono camminare, possono buttarsi per terra, possono anche azzuffarsi amichevolmente tra di loro. E dall'altra abbiamo una seconda vita in cui si siedono, devono stare composti, devono ascoltare per un'ora, due ore, una persona che parla senza che loro possano replicare. Hanno come unico strumento dei fogli di carta statici, che anche se sono un po' colorati, però tutto sommato presentano al massimo delle righe colorate o delle foto, il cui unico movimento, l'unica possibilità di interazione è semplicemente voltare pagina, di fronte ad un muro, ad un pezzo di muro, nero, su cui compaiono delle scritte bianche. Fine della questione, fine di queste ore. Quindi fondamentalmente stiamo parlando di una vita in cui i nostri ragazzi hanno la possibilità di esprimere se stessi in tutta la loro forza, in tutta la loro potenza, in tutta la loro creatività, in tutto il loro colore. E dall'altra una vita in cui tutto questo gli viene precluso, come dalle tigri in una gabbia. E questo viene confermato anche da esperimenti che sono stati compiuti nelle scuole sia all'estero e in alcuni casi ultimamente, fortunatamente, anche qui in Italia. Ossia la possibilità di aggiungere dotazioni multimediali, quindi tablet, LIM, nelle scuole durante le lezioni, non solo come un semplice aiuto, ma come parte integrante della didattica. Parte integrante e parte integrata. E i risultati, in termini di attenzione e di engagement, sono stati sorprendenti. Quindi torno a ripeterti la domanda iniziale e voglio che ne parliamo insieme nei commenti. Siamo davvero sicuri che il problema sia lo smartphone? Oppure il vero problema sta nelle lezioni?